Non porre limiti alla fantasia, chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo è il mondo di Mirabilia, l'universo dove tutto è concesso, tranne annoiarsi. Complesso Mirabilia 2 Village è ristorante, pizzeria, piscina. Ideale per le tue feste private a bordo piscina o al chiuso e party a tema. Potrai assaporare ottima cucina casereccia su prenotazione con menu a prezzo fisso a 15 euro. Mirabilia, a quarto Napoli, via Lenza Lunga 6A, per info e prenotazioni 081 806 3502, 338 564 7236, www.mirabilia.com È in funzione la piscina, rilassati con un bagno e un drink.